A che piano saliamo? Undici. Credicesimo, damo, una battuta ti devo ricordare. Che fine ha fatto la tua foglia? Guarda, da quando ti ho convinto a mangiare questa mera le cose sono cambiate in peggio anche in funzione dei nostri outfit. Sì, potremmo sembrare sexy, appetibili, ma gli occhi degli altri sembriamo semplicemente stupidi e vulgari e i giovani finiscono per invitarci, fanno dei gran casini, capisci? La povertà mentale di cui siamo i primi ambasciatori della storia dell'umanità, pensaci, perché mostriamo il nostro corpo sui social, mostriamo autostima o cerchiamo stima negli altri? Basta! Il nostro è un narcisismo patologico, dobbiamo uscire dalla dittatura di una società fatta di sola apparenza e evadere dalla gabbia del culo sodo e degli addominali scolpiti, dal bunker della mutandina trasparente. Perché i calzini? Freddo. Ecco, vedi? E allora copriamoci, seguiamo i consigli della dottoressa Ipocrisi. Hai detto? Ipocrisi? E lei chi mi ha fatto questo discorso? Ho cominciato ieri a seguirmi su Instagram, ho messo anche dei cuori nelle foto in cui vi ho sconuto dalla doccia.